Invece a con porta, no no, pensiamo che sia abbastanza bene, c'è la reciproca volontà di fare, si tratta solamente di rimettersi a discutere su una situazione che è prettamente finanziaria perché su quella tecnica non abbiamo dubbi di nessun tipo. Mi viene da dire, e non è giusto, diamo per scontato che sia così, però ci dobbiamo parlare con il ragazzo per rispetto, però pensiamo che sarà una cosa che ci vogliamo bene reciprocamente, quindi penso che quando ci si vuole bene una cosa si trova, un accordo si trova. Mi hai fatto venire in mente Totò, abbiamo preso 30, prenderemo pure 31, no, era una battuta. Ascolta, divido i giocatori interni e perimetrali, per i lunghi parlo. Trotman è un giocatore con un raggio ridotto, anche se poi sa tirare anche da tre, quindi pur non essendo un giocatore altissimo, due metri e due di roba, però è un giocatore di grande intensità, di grande determinazione, che gioca bene i spazi ristretti. Adesso quello che stiamo cercando è un giocatore che possa aprire il campo, quindi nel ruolo del lungo, se ho capito bene la domanda, stiamo cercando un giocatore che abbia perimetralità, che sappia tirare anche da tre. È un quattrino e un treone, è un quattrino e un treone. È un buon giocatore, a noi piace quel giocatore. Per incastrarsi dobbiamo vedere che tipo di italiano lungo riusciamo a prendere, che stiamo già in ballottaggio con alcuni giocatori. Allora, se riuscissimo a prendere un lungo italiano, un giocatore interno italiano, allora quello è un giocatore che si potrebbe incastrare benissimo. Però sembrerà, chiedo scusa, se non riusciamo a prendere il lungo italiano, questo potrebbe saltare, perché non si sposa con la chimica. Andiamo per credito. Quello che appartiene al passato, non so qui, è come ha detto lei, per giudicare niente. Stiamo cercando di spendere bene i soldi che abbiamo. Quindi, Lofton, che è un ottimo giocatore, due settimane fa sembrava che dovessimo prenderlo. Però io non credo che sia una trattativa che andrà in porto, anzi, pensiamo di no. Stiamo giocando su altri nomi. Vorrei sempre dire, lo dico a tutti, che magari tra due settimane potrebbe firmare Lofton e dicere che allora ci ha preso in giro. No, vuol dire che il mercato dopo, se oggi Lofton sta su una cifra che io non posso prendere in considerazione, lo accantono. Tra due settimane Lofton non trova squadra, me lo ripropongono ad un'altra cosa. Io non ho fatto la trattativa con un altro, allora si ripropone Lofton. Quindi i tempi sono questi. Non è scavalcare o prendere in giro. In questo momento stiamo su altri nomi, più vicini alle nostre realtà economiche, finanziarie. Però anche compatibili con il valore del giocatore. Perché la mia idea è che non ci siano giocatori che da soli possono cambiare il volto di una squadra. Pensiamo e penso veramente che invece la chimica di una squadra possa aiutare a creare un valore aggiunto che fa migliorare un giocatore e una situazione. Quindi dove non riusciamo con il valore di un giocatore, cerchiamo di farlo diventare con un valore di squadra. Per questo stiamo cercando di giocatori più giusti. Per quello che riguarda Tramaslay non farà parte della nostra squadra. Stiamo cercandola di risolvere nel modo migliore possibile. Perché parallelamente al mercato stiamo facendo anche quello. Cioè di risolvere il passato in modo che non pesi più sulle casse della società ma soprattutto sulla credibilità della società. perché una delle difficoltà che abbiamo in questo momento è che Avellino che fa? Ma Avellino fa. Avellino fa. Ma l'anno scorso? Ma l'anno scorso? Allora guardiamo la storia di Avellino perché se no l'anno scorso. Quindi stiamo cercando di risolvere questo in modo di ritornare ad avere credibilità perché il mercato ha bisogno molto di credibilità. E lo stiamo scoprendo perché ci vuole dire Avellino, Avellino, Avellino. E' più facile prendere un americano che non un italiano ad Avellino ad oggi. Per questo motivo. Quindi ci stiamo muovendo su più cambi ma vogliamo fare la squadra e nello stesso tempo si stanno risolvendo le altre cose. Ora le dico subito questo. La prima cosa che ho fatto quando sono venuto ad Avellino, la prima, il giorno che sono venuto ad Avellino, ho chiesto un incontro con Paolisso. Ho parlato con Paolisso. Ho cercato di dirgli tutte le cose in cui credevo. Paolisso ci ha comunicato che non vuole più giocare a basket. Ma questo sarebbe stato il primo più grande risultato che potevo ottenere perché un ragazzo in cui credo, credo prima di arrivare ad Avellino perché l'avevo visto, era il primo uomo su cui puntavo. Il primo, il primo, il primo. Quindi chiedete a Paolisso, quindi non ho paura di smentire. Ecco, quindi, no, 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 no. Il primo uomo su cui puntavo perché era italiano, perché era Avellinese, perché era un giovane. Quindi la prima cosa che ho, ho cercato lui, non ho cercato altri, sono riuscito a parlarci, ho parlato con lui, dopo aveva gli impegni di scuola doveva fare gli esami, poi ci ha comunicato che invece non voleva più giocare a palacadestro e abbiamo rispettato la casa. Il primo grande impegno mio è stato proprio Paolisso perché è un giocatore che io rispettavo, un ragazzo che io rispettavo perché l'avevo visto due stagioni fa, tre stagioni fa in un torneo, l'ho seguito con le varie nazionali, l'ho seguito a Porto San Giorgio ottobre scorso con la nazionale di riferimento e gli ho fatto vedere gli appunti che avevo preso sul suo nome. Quindi era una cosa che seguivo, era una cosa che ci avrei tenuto moltissimo. Vi ribadisco, giovane e avellinese e italiano. Era un successo, mi dispiace molto, però bisogna anche rispettare le idee degli altri, lui ha deciso di non giocare più a basket.